E' lo strappo finale a decidere l'esito anche del percorso lungo della Gran Fondo Velodromo di Forano. Ai piedi della salita si presentano in sei Cristian Mariani, Marco Corelli, Roberto Terlizzi, Mirko De Angelis, Luca Clementini e Angelo Mirtelli. Perfetto gioco di squadra dei tre atleti del cycling team Terenzi con Luca Clementini che va ad attaccare sul tratto più impegnativo della salita. Ed è un trionfo in solitaria quello di Luca Clementini all'interno del velodromo. Secondo posto per Angelo Mirtelli, terzo Mirko De Angelis, quarto Cristian Mariani, quinto Marco Corelli, sesto Roberto Terlizzi. Luca eravate in tre, avete gestito perfettamente il finale, è arrivata questa bella vittoria. Beh, casualmente, proprio perché non è che sono così esperto da gestire i finali, però ci è riuscito bene, quindi bene così. Sì, la corsa è andata regolare, fino all'ultimo. Siamo riusciti a controllarla ed è stato tutto a mio vantaggio perché ho potuto fare l'azione nel finale, sullo strappo finale che conoscevo. Lo l'ho fatta anche lo scorso anno, l'azione che mi è balza il secondo posto, quest'anno l'ho ripetuto e ho vinto. Siamo riusciti a controllare. Grazie a tutti